viene messo a morte, privato di ciò che lo caratterizza, lo spirito anticapitalistico. Marx dunque è un unicum nella tradizione del pensiero occidentale, il capitale stesso, come subito dirò, è a suo modo un unicum. È un unicum per molti motivi, qui mi piacerebbe ricordarne semplicemente due intrecciati fra loro e credo di grande rilievo. Anzitutto perché con Marx la filosofia cessa di essere ciò che era stato fino a quel momento e diventa qualcosa di nuovo. Con Marx la filosofia compie un esodo dalle facoltà di filosofia, dalle università, vuoi anche dalla torre d'avorio dell'intellettuale isolato e si fa mondo. La filosofia si dona al mondo, il tema che il giovane Marx nella sua dissertazione di laurea declinava come philosophisch werden der Welt, il diventar filosofico del mondo stesso, la ragione che deve permeare il mondo facendosi essa stessa mondo, trasformandolo secondo l'undicesima delle tesi su Feuerbach. Ma poi Marx oggi, nonostante il pensiero neoliberale ne dichiari continuamente la morte, continua a essere dopotutto la pietra di paragone, l'irrinunciabile pietra di paragone rispetto a cui ciascuno di noi, ogni intellettuale, è chiamato a prendere posizione rispetto alle lotte del proprio tempo, rispetto ai problemi sociali e politici del proprio tempo. Scriveva Lukács negli anni 50, ma credo che il discorso sia valido a maggior ragione oggi, che la serietà con cui un intellettuale si confronta con Marx, con i problemi da lui sollevati, è l'indice della sua stessa serietà di intellettuale rispetto alle lotte che animano il mondo in cui vive. Quindi Marx, come potremmo dire, segnalatore di un problema realmente esistente. Tanto più che oggi Marx si presenta come un naufrago, con le sembianze di un naufrago. Ha resistito all'incorporazione ideologica negli apparati stalinisti, ha resistito all'incorporazione ideologica nella socialdemocrazia e continua a resistere anche alla continua opera di esorcismo che si fa del suo pensiero. Marx continua a essere, lo ripeto, segnalatore di un problema che non ha smesso di tormentarci. Continua ad animare in noi quella coscienza infelice, non soddisfatta, non appagata, che continua a essere, dopo tutto, la matrice di ogni reazione filosofica al capitalismo. Tanto più che oggi è vero il capitalismo ha subito innumerevoli trasformazioni rispetto ai tempi di Marx. E' cambiato moltissimo, sono tali e tante le trasformazioni che sarebbe sicuramente limitativo applicare le sole lenti interpretative marxiane per decifrare i movimenti dell'economia e del mondo capitalistico oggi. Chi lo rinunciasse, chi cioè applicasse le sole lenti interpretative marxiane sarebbe votato probabilmente alla miopia. Ma sono anche convinto che chi rinunciasse preventivamente alle lenti interpretative di Marx sarebbe perciò stesso votato alla cecità completa, giacché senza quelle lenti non si può capire nulla di un mondo che, nonostante i tanti mutamenti che ha subito, continua a essere animato dalla contraddizione che Marx nell'Ottocento vi aveva scorto, la contraddizione del capitalismo. Marx dopo tutto continua a essere due cose irrinunciabili nel nostro orizzonte storico, l'orizzonte della forma merce assolutizzata, intrascendibile. Marx continua a rappresentare la più glaciale critica del capitalismo, inteso come massima alienazione dell'uomo rispetto alle proprie potenzialità ontologiche e continua poi a rappresentare la più suadente promessa di felicità di cui il pensiero moderno sia stato capace, quella ulteriorità nobilitante di cui dicevo prima. Appunto è questo, questa unione di critica radicale e di promesse in evasa di felicità a venire la struttura che abita intimamente il capitale, l'opera su cui, come diceva Althusser, Marx deve essere valutato, l'opera principale, il punto d'arrivo se vogliamo del suo percorso. Opera è sa stessa spettrale per molti versi, il capitale di Marx non meno dell'autore dell'opera continua a essere oggi uno spettro ossessionante. Chi del resto ha letto veramente il capitale di Marx? Chi si è fatto carico dei tre ponderosi tomi di cui consta l'opera? Chi veramente l'ha affrontata di petto? E' interessante ricordare come lo stesso Fidel Castro, colui cioè che in nome di Marx ha agito nel mondo e per il mondo, ha torto o ha ragione, questo è un altro discorso, ha ammesso pubblicamente di non essersi mai spinto oltre pagina 20 del primo libro del capitale. Tanto più che si tratta di un'opera spettrale non solo per il suo peso fisico ma anche per la sua struttura, è un'opera che non è di Marx. Marx ha scritto solo il primo libro, gli altri due sono stati redatti da Engels su materiali certo marxiani ma non coerentizzati, non strutturalmente portati a termine da Marx e pubblicati quando Marx già non c'era più e non poteva prendere posizione rispetto ad essi. Appunto un'opera spettrale, spettrale almeno quanto l'altra grande opera di Marx, l'ideologia tedesca, un testo che oggi viene presentato come fosse un libro quando in realtà sono manoscritti e abbandonati alla critica roditrice dei topi della cantina che l'hanno rosicchiato rendendolo irriconoscibile. Un'opera non di Marx dunque e che per di più porta con sé la dannazione che era tipica di Marx, l'incompiutezza. Il capitale è un'opera anch'essa incompiuta come larga parte della produzione di Marx. Sappiamo come si conclude il terzo libro del capitale, le classi sociali, venti righe e poi il silenzio. Si chiude l'opera strutturalmente incompiuta, quasi come Marx e Engels avessero voluto affidare a noi il compito di portarla a termine, già che il capitalismo non si è certo concluso con la vicenda biografica di Marx e Engels. Viviamo ancora nel capitalismo e abbiamo il compito di, avrebbe detto Graham, sci portare all'altezza dei tempi Marx, la sua opera, aggiornarla. Del resto nel manifesto del Partito Comunista, in una delle prefazioni che Marx mette all'opera, troviamo un avvertimento singolare che a sua volta fa un unicum dell'opera di Marx. Marx scrive, attenzione, non prendete queste parole del manifesto come se fossero definitive, sono un punto d'approdo provvisorio che deve essere riformulato, ricalibrato perché il capitalismo è una realtà essa stessa cangiante. La storia cambia, il pensiero filosofico che pensa alla storia deve esso stesso aggiornarsi. Quindi un work in progress annunciato dal suo stesso autore. Un'opera di scrittura e riscrittura, potremmo dire. Un'opera incompiuta. Marx incompiuto e Marx oggi utile proprio in grazia della sua incompiutezza. Non c'è nulla di definitivo in Marx. C'è appunto l'esigenza di non tornare a Marx, al suo progetto incompiuto, ma di ripartire da Marx per portarlo all'altezza del nostro presente. In questo mio intervento sul capitale, naturalmente senza alcuna pretesa di esaustività, già che un intervento serio articolato sul capitale ci imporrebbe un seminario di un anno, forse anche di due, in questo mio intervento invece proverò impressionisticamente a dare alcuni spunti, ad affrontare alcuni plessi teorici dell'opera e soprattutto proverò a dare una chiave di lettura generale, una sorta di visione d'insieme. Per utilizzare un'immagine cara a Hegel, proveremo non a vedere i singoli alberi, ma proveremo a vedere la foresta, all'interno della quale poi il lettore potrà autonomamente collocare i singoli alberi. Pensare da sé è la prima chiave per accedere alla filosofia e nella fattispecie a quella di Marx. Nella prefazione al capitale, Marx dice, vogliamo lettori in grado di pensare da sé e dunque di farsi una propria idea del mondo, di non dipendere dalle ideologie dominanti che sono portatrici oggi più che mai di quel pensiero unico che tende a escludere Marx dal panorama filosofico intellettuale. Dunque sono due gli obiettivi che mi propongo. Anzitutto, l'ho detto, provare a mostrare una chiave di lettura complessiva dell'opera. Come leggere il capitale, per citare la grande espressione che uno dei massimi allievi di Marx nel Novecento utilizzava, il Tusser. E in secondo luogo, ma è una domanda correlata a quella precedente, che solo astrattamente può essere disgiunta dalla precedente, vorrei provare a chiarire che tipo di opera è, quale tipo di sapere è racchiuso nelle pagine di Das Capital? Che tipo di sapere è? Filosofico, economico, sociologico, politico? E per converso, in maniera potremmo dire sinergica a questa domanda, sorgerà spontanea un'altra domanda. Che tipo di sapere è quello di Karl Marx? È Marx un filosofo? È un economista? È un politologo? Sono tutte domande che paiono irrinunciabili per chi voglia affrontare il capitale. Nel nostro incontro di oggi si dà per scontato che Das Capital sia un'opera filosofica, di più un classico della filosofia. Premetto che sono totalmente d'accordo con questa lettura. Per me è un grande classico della filosofia. E penso però che questo fatto, essere il capitale di Marx un classico della filosofia, sia un presupposto necessitante un'argomentazione. Non lo si può accettare a scatola chiusa, come se fosse appunto scontato. Ci richiederà questo, citando e variando un'espressione di Marx, un plus lavoro ermeneutico. Dovremmo entrare nel testo per vedere se effettivamente vi è in esso la presenza di una filosofia e quale tipo di filosofia. La tesi che intendo sostenere, che cercherò di argomentare nel mio intervento, è che il capitale di Marx è un'opera filosofica. Di più è un capolavoro dell'idealismo tedesco. Un grande capolavoro dell'idealismo tedesco. O per usare un'espressione che impiega lo stesso Marx in una lettera a Engels del 20 febbraio 1866, ein Triumph der deutschen Wissenschaft, un triomfo della scienza tedesca. Laddove è interessante di questa definizione la specificazione geografica tedesca. Qual è la scienza tedesca? Perché una scienza deve essere specificata in senso geografico? Proprio per distinguere la scienza tedesca, cioè la scienza idealistica, filosofica, quella che rimanda a Fichte e a Hegel per intenderci, e altra cosa rispetto alla scienza economica di tipo inglese. Non è un'opera economica quella di Marx in altri termini, come cercherò di sostenere. Tant'è che Marx, come sottotitolo della sua opera Das Kapital, pone, come ben sapete, critica dell'economia politica. Critica dell'economia politica, cioè l'economia viene studiata e criticata come espressione ideologica del mondo della produzione capitalistica, che riduce tutto alla determinazione economica. Appunto un trionfo della scienza tedesca. Tanto più non si può accettare questo presupposto, essere il capitale di Marx, un'opera filosofica, per il semplice fatto che in passato, in tempi anche piuttosto recenti, ci sono stati dibattiti infuocati, dibattiti indiavolati fra gli interpreti, su quale fosse la natura del pensiero di Marx, quale fosse il carattere di Das Kapital. Come si può pensare che Das Kapital sia un'opera filosofica dopo il grande dibattito sulla rottura epistemologica inaugurato dal Tusser e dalla sua scuola? Come si può pensare che Das Kapital sia un'opera filosofica quando da noi in Italia Galvano della Volpe ha mostrato in maniera molto chiara esservi Marx un congedo della filosofia risalente almeno al 1843? Come è possibile allora dare per scontato tutto questo? Ripeto, ci vuole un plus lavoro ermeneutico, un plus lavoro ermeneutico che tenga ben presente il fatto che l'opera di Marx, come ben sapete, è strutturalmente pluridisciplinare. I campi del sapere più diversi attraversano il capitale, si intersecano, si intrecciano a geometrie variabili, l'economia, gli studi sociologici sul campo della condizione della classe operaia, gli studi storici sull'accumulazione originaria, gli studi filosofici anche sulla forma merce, formano potremmo dire una totalità espressiva che sembra sfuggire alla presa unica di ogni sapere. Appunto questo è uno scandale, una follia per il nostro tempo che è un tempo di specialismo, di specialismo accademico se volete. L'epoca, come diceva Lukács, dell'idiotismo specialistico in cui ci si occupa in maniera esatta di pseudoproblemi, rinunciando preventivamente a comprendere la totalità espressiva, id est, il capitalismo come totalità contraddittoria. L'odierno specialismo ha una sua portata ideologica chiarissima, non pensate al capitalismo, pensate alle singole scienze, pensate ai singoli aspetti della realtà, ma mai interrogate la realtà sociale olisticamente intesa in cui siete proiettati. Appunto idiotismo specialistico come quintessenza dell'ideologia del nostro tempo. Ne va dimenticato del resto, sulla scorta di quanto già dicevo a proposito di Galvano della Volpe, che Marx a partire dal 1845 almeno, da quel testo soglia che è la ideologia tedesca, ha detto di se stesso espressamente di non essere un filosofo, di essere lo Stato ma di non volerlo più essere, imputando al sapere filosofico, alla forma filosofia tutta una serie di limiti, di difetti, di contraddizioni che poi vanno sotto il nome di ideologia. La filosofia come contemplazione santificante dell'esistente, come emanazione sovra strutturali.